Che è stato programmato? Nell'antico spiritismo si formava la catena medianica e tra gli anelli della catena si cercava di addormentare magneticamente la persona che sembrava avere istanze medianiche. La catena si componeva di un tavolino leggero a tre o a quattro gambe e di persone disposte attorno che mantenevano il contatto mediante il dito mignolo. Perché adesso alcune guide selezionano le persone interessate alla riunione, selezionano il magnetismo del luogo in cui avviene la riunione e si servono di uno strumento che è stato programmato prima che si incarnasse? Commento Perché la coscienza individuale e collettiva si è ampliata e il livello del contatto medianico si è elevato. I partecipanti di grandi cerchi, per esempio, sono consapevoli che non sono lì a caso, ma sono legati tra loro da vite precedenti. Cerchiamo di immaginare verso quali orizzonti apre l'attuale contatto con i piani superiori di esistenza. Grazie. 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 Grazie.